I volontari del Comitato di Ercolano della Croce Rossa Italiana questa mattina sono nell'area dei Molini e Marzoli per effettuare test sierologici ai cittadini. Come sta andando? La popolazione ha accolto bene questa iniziativa, infatti già una quindicina di prelievi sono stati fatti e chiedono spiegazione ovviamente su quello che andranno ad affrontare e su come devono comportarsi per avere i risultati. Comunque stanno rispondendo in modo positivo. Ricordiamo qual è la finalità di questi test? La finalità è per vedere se si trovano degli anticorpi, se si è avuto il coronavirus, se si è contratto il Covid-19. Qual è stato il criterio in base al quale sono stati chiamati i cittadini? Allora sono nominativi che comunque ci ha mandato l'Istat, sono dei campioni che vengono presi stesso su basi dall'Istat e noi attraverso un call center contattiamo le persone e li invitiamo appunto nei giorni stabiliti ad effettuare questi prelievi. Con il filtro anche del medico di base? Allora laddove ecco ci sono delle titubanze da parte di chi riceve la telefonata e subentra anche il medico di base che comunque va a rafforzare già la nostra spiegazione che viene data attraverso il call center, la telefonata che si riceve a casa. Praticamente in che consiste l'esame? È un normale prelievo di sangue? È un normale prelievo di sangue, non è nulla di invasivo e va comunque a nuocere anche laddove ci sono delle patologie esistenti. Lo possono fare tutti, dai bambini agli adulti alle persone più anziane, senza creare alcuna controindicazione. Voi sarete qui da oggi fino a venerdì? Sì, però già siamo stati precedentemente nel territorio di Torre Annunziata perché comunque il comitato di appartenenza interviene sul territorio di Ercolano, Torre del Greco e Torre Annunziata. Questa settimana ci ospita appunto Torre del Greco. Giuliana Esposito, responsabile di Stecca. Oggi qui a Molini Marsoli, un'importante iniziativa con la Croce Rossa italiana. Sì, noi di Stecca ci siamo sentiti chiamati in prima persona a partecipare a questa iniziativa. Questo periodo di emergenza sanitaria ha penalizzato il mondo delle imprese, delle start-up in particolare. Molte imprese si sono trovate a subire il lockdown, stanno tuttora rivedendo i propri processi lavorativi, per cui anche noi sentiamo l'esigenza di dover mettere in atto tutte le iniziative utili ad arginare il contagio e quindi ritornare ad una normalità ed evitare che si creino nuove crisi, non solo per la salute ma anche per l'economia, per i lavoratori e per le imprese. Un'emergenza sanitaria che sembra lentamente tornare alla normalità, lasciando il posto però ad una vera e propria emergenza economica. Credo che un po' tutti ci siamo trovati a fare delle riflessioni su quanto è accaduto, non solo perché abbiamo subito uno stop lavorativo ed economico, ma perché ci siamo trovati impreparati a rispondere a questa emergenza economica. Quindi un danno sicuramente economico che è su tutti i giornali, ovviamente non sono io la persona che deve dare i numeri, però chiaramente ci deve far riflettere su come da questo momento in poi le imprese devono gestire in maniera creativa le proprie attività, devono riprendere le proprie attività con criteri diversi, con valutazioni diverse e quindi ci auguriamo che questa fase di ripresa possa essere di spunto per creare nuove opportunità e nuove condizioni lavorative migliori. A livello locale come sostenere le imprese e il commercio? Sicuramente la nostra parte è quella di sostenere le imprese dal punto di vista informativo e consulenziale, come abbiamo sempre fatto anche durante il periodo di quarantena, tenendoli informati e supportando l'accesso a tutte le misure economiche che il Governo e la Regione ha messo in campo, ma anche aiutandoli ed accompagnandoli su questo processo di ridisegno delle modalità lavorative e immaginando degli scenari futuri. Stiamo appunto immaginando un nuovo scenario economico che necessariamente parte da questa emergenza e che deve portare nuove opportunità per tutti. Stiamo appunto immaginando un nuovo scenario economico e che deve portare nuove opportunità per tutti. Stiamo appunto immaginando un nuovo scenario economico e che deve portare nuove opportunità per tutti. Ok, così schifzi. Grazie a tutti.